Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ipodromo Arcoveggio di Bologna, stanno per partire i cavalli della prima corsa, puledri di due anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 10 dietro le ali della macchina, sulla distanza dei 1.660 metri. All'uno First Lady VL, Francesco Facci, 2. Frank BF, Roberto Vecchione, 3. Fem Fatalsi, Manuel Pistone, 4. Fanta Spritz, Carmine Piscoglio, 5. Falco Trio, Roberto D'Alessandro, 6. Frejus Grimm, Igor Guasti. In seconda fila, 7. Fiorenza Clà, Edoardo Baccalini, 8. Frumento, Maurizio Cheli, 9. Forgido, Sandro Miraglia, 10. Francisco Benal, Francesco Tufano. L'autostart inizia ad accelerare sulla piegata, con cautela il favorito Frejus Grimm. Si parte con veloce Fem Fatalsi che va al comando nei confronti di First Lady VL a largo Fanta Spritz, poi Falco Trio in mezzo alla pista Frejus Grimm. Si imbocca la prima piegata con Fanta Spritz che chiede o tiene strada da Fem Fatalsi e tende a passare dopo 200 metri di corsa passati in 15.8. A largo avanza Falco Trio portandosi a presso Frejus Grimm. Terza la corda è First Lady VL, poi ancora Fiorenza Clà. Se ne vanno 400 metri in 31.1 con l'attacco da parte di Falco Trio a Fanta Spritz. Fanta Spritz che corre davanti, replica la presenza esterna di Falco Trio. Alla corda rimane Fem Fatalsi, quindi First Lady VL con accanto Frejus Grimm. Poi mano a mano gli altri con Frank BF a fare la terza pariglia avanti a Frumento. In corda invece c'è Fiorenza Clà a precedere Forgido alla retroguardia, Francisco Benal. 1.1.7 per i primi 800 metri di corsa. Si muove in terza ruota Frank BF per provare a andare sulla testa della corsa. Tanto la battistrada prosegue indisturbata leader al chilometro in 1.17.5. Fanta Spritz al comando nella sua scia Fem Fatalsi. A largo sempre Falco Trio prova a migliorarsi in mezzo alla pista Frank BF mentre non progredisce Frejus Grimm. 400 dalla conclusione, 15.6 la retta di là. L'attacco da parte di Frank BF che prova a portarsi su Fanta Spritz la quale continua in vantaggio. Muove a largo anche Frumento che si avvicina ai primi. Quando siamo a 200 metri dalla conclusione la retta d'arrivo per Fanta Spritz che la affronta in vantaggio nei confronti di Fem Fatale. A largo Frank BF Fanta Spritz che allunga da Fem Fatale sì che prova a spostare ma è facile Fanta Spritz che stappa il convegno con una vittoria. Successo per Carmine Piscuoglio in salchia la lieva di Andrea Sarzetto, portacolori della Valle Falconera. Figlia di Oro Puro Barri dell'ottimo Upupa Spritz. Vittoria in percorso di testa per il numero 4. Fanta Spritz, Carmine Piscuoglio che nel finale allungano decisamente sui rivali. Viene a vincere molto bene Fanta Spritz al secondo posto. E ancora Fem Fatale sì che tiene botta all'ottimo finish di Frumento. Spritz al secondo posto. E ancora Fem Fatale sì che tiene botta all'ottimo finish di Frumento. Spritz al secondo posto. E ancora Fem Fatale sì che tiene botta all'ottimo finish di Frumento.